a cazzo pochissimo tempo ciao a tutti allora oggi sono qua per fare un aggiornamento della collezione cerchiamo di farlo veloce perché devo andare a mangiare voi direte a me che cazzo me ne frega a me frega ho fame allora partiamo subito con le cose che mi sono state inviate per recensione quindi non che ho comprato io ma di cui dovrò occuparmi sicuramente sul sito sul canale il primo di tutti è veramente una chicchia incredibile direttamente da tom six cioè dalla società che lo distribuisce direttamente dalla six entertainment company the human centipede trilogy steelbook fenomenale non vi faccio vedere una mazza perché farà una video recensione e quindi vi farò vedere l'interno e vi farò la recensione dei tre film questa edizione ha i sottotitoli in italiano vi lascio il link in descrizione per acquistarla direttamente dal sito di tom six six entertainment company.com che dire troppo bella un pezzo pregiato per la mia collezione e cominciamo così insomma cominciamo con un pezzone ma ci sono tantissime altre cose interessantissime che mi hanno inviato e poi alcuni acquisti di amazon confronto e alcune cose trovate in giro per bancarelle edizioni bd una fantastica casa editrice che pubblica fumetti e ogni tanto anzi spesso pubblica anche cose rigate al mondo dell'horror mi ha inviato per recensirlo il mostro madonna guardate che bello che è colori e disegni il mostro di giungito scusatemi se non sono un esperto di manga di anime insomma lo ero molto di più tantissimi anni fa quando leggevo manga io per farvi un esempio un must era akira quindi capite che ne sono passati di anni comunque giungito è un fumettista che fa tantissime storie un po un bel po creepy un po lo stile così ci sono delle cose strafiche comunque ho già letto una storia poi leggerò tutto il resto vi farò una video recensione che potrete vedere qua davvero un bellissimo volume che non costa neanche molto perché sono 15 euro ed è veramente un bestione guardate c'è una storia che si chiama frankenstein e altre storie una raccolta sempre per pr ho ricevuto the hunt insomma ne abbiamo parlato tanto in live farò una recensione anche di questo è un film comunque promosso totalmente funziona però adesso ma non vi dico altro perché non voglio vi faccio vedere il maialino perché giusto perché maialino è carino e in più mi assomiglia ah sì dentro ci sono anche i contenuti speciali e la cosa l'ho apprezzata parecchio universal poi eagle picture non manca mai un oro della eagle picture ogni mese quasi esattamente come di ante dove andare in sala è andato direttamente in un video o digital non so se c'è in digital credo di sì comunque sì credo di sì che su prime sia a noleggio the room la stanza del desiderio blu ray sempre la fantastica edizione che io apprezzo con il blu ray e il dvd nel caso abbiate solo il lettore dvd e un giorno vogliate comprare il blu ray avete già la copia questa è una cosa molto figa lo dirò sempre il film è stato recensito da poco sul sito internet di non aperte questo blog da roberto donofrio che è un bravissimo recensore insomma un fiore all'occhiello per noi di non aperte questo blog perché lui è anche corrispondente italiano di fangoria di rogo e morgo e ho fatto due nomi piuttosto importanti per quanto riguarda l'horror sapete che oltre a essere vice direttore di asylum fest è anche editor insomma autore degli articoli per non aperte questo blog due uscite fantastiche di digit movies che sapete è anche quella che fa uscire gli spasmo video di cui abbiamo parlato tanto con alex visani questa invece un'altra collana che si chiama freak video due uscite fantastiche una è spider baby l'altra è phantom scusate mi confondo phantom fronde 10.000 leghe mostro marino insomma questo è veramente questo è veramente freak ma super freak nel senso di proprio l'ignorantata galattica super strano in quei film che insomma non sono andati tanto bene hanno avuto vite travagliate però non sono brutti cioè su strambi su strambi sono da vedere assolutamente questo classico mostrone c'è anche ci sono anche delle situazioni un po comiche mentre invece questo anche se fa parte della collana freak video per me è un capolavoro assoluto però è giusto che sia in questa collana perché è molto strano è un film stranissimo spider baby molto molto weird questo per me è un capolavoro se siete amanti anche del cinema po appunto so bad it's good anche questo è consigliato uscite della digit movies vi lascio il link in descrizione per comprare tutti questi film che vi sto facendo vedere ora iniziamo con gli acquisti faccio una deviazione e vado sui videogiochi ho deciso di comprare era un po in offerta insomma era un po scontato l'ho pagato tipo poco più di 20 euro resident evil 2 il remake ho iniziato a giocarci non ho tantissimo tempo quindi ho fatto solo una partita di un'oretta la trovate su twitch il remake del primo resident era molto simile ma con tutto abbellito invece qua è molto diverso nel senso che è proprio ricostruito completamente tra l'altro è super horror veramente c'è ho visto delle scene fatte da dio proprio fatte veramente bene cercherò di giocarlo più spesso possibile su twitch quindi se volete seguitemi su twitch naqb su twitch ho fatto anche un altro dei miei acquisti folli su amazon folli nel senso che in realtà non è folle perché ho pagato 20 euro 6 non mi credete 6 blu ray ho pagato 20 euro perché se voi andate poi vi lascio il link se volete qua in descrizione vi lascio il link adesso magari è stato un po saccheggiato però c'è il link con i titoli un po in svendita e ogni tanto si trova roba pregevole io per esempio non avevo dei cult e li ho comprati per esempio gremli blu ray fantastico giudante poi dentro c'è anche qualche specialino dietro le quinte fantastico colgo la palla al valso per ricordarvi che è disponibile il libro il libro su giudante di cui io sono uno degli autori della web book vi lascio il link in descrizione se lo volete comprare di cui nel libro io mi sono occupato di parlare di un film particolare che ai confini della realtà il film dove lui insomma fa un episodio giudante fa un e dirige un episodio insieme a spilberg miller john landis poi oltre a gremli nel pacchettino da 20 euro ho preso pito giudice cazzo ragazzi pito giudice pito giudice quante volte bisogna dirlo per farlo comparire scrivetelo nei commenti pito giudice pito giudice pito giudice pito giudice minchia il mitico michael kiddo ma questi cazzo che film erano ragazzi ma che film erano che fin sono che film sono fantastico spiritello porcello spiritello porcello questo non lo conosco la casa dei vampiri però mi ispirava tantissimo mi farò sapere com'è sembra figo non ho nessuna edizione venerdì 13 quindi ciò al venerdì 13 il primo blu ray vediamo se c'è qualche contatto speciale questo è il famoso film dove bacon viene fatto a fette bacon a fette insomma è mitico che viene e come si fanno ad amare che vi in bacon come si fanno ad amare venerdì 13 e come si fanno ad amare il bacon a fette da andiamo un po più veloce perché poi questo c'è questo è c'è ragazzi ma non avete idea di quanto l'ho pagato un cazzo rosman this baby in caldo assoluto dei film di possessioni di diavoli cose del genere sette insomma roman polansky bellissima mia faro insomma uno stile questo film uno stile pazzesco e poi l'ultimo dei sei film che ho preso a 20 euro su amazon vi lascio il link per le offerte così lo potete provare a vedere se c'è qualcosa che vi interessa siete pronti da 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 si l'ho fatto ho preso di congiure in due che tra l'altro adesso qua partiranno migliaia di con me no migliaia no perché non mi seguono in migliaia però partiranno tantissimi commenti ha preso di congiure di congiure in due sono due filmettini carini dai su l'abbiamo sempre detto è tutto il resto che ha rotto i coglioni ma poi io comunque ho anche annabelle sempre questo faccio la collezione che ho lezionato tutto e di congiure in due insomma blu ray pagato niente pagato niente passiamo ai dvd blu ray se forse c'è qualche blu ray usato trovate mercatini pagati tutti questi film sono stati pagati tutti o un euro due euro adesso non me lo ricordo più persone lì da un po da un mesetto scari lui ho deciso di iniziare a comprare gli scari quindi farò tutta la collezione scari in dvd propagandoli pochissimo insomma fanno ridere si fa per dire insomma io sono dell'idea che per ridere con gli schieri movies bisogna essere un po dei cerebrati però però qualche cosa fa ridere insomma per ridere proprio ridere tanto tanto con gli schieri movies bisogna proprio essere avere un lenceofologramma piatto dei ai vabbè questi sono i soliti film di fantasmi giapponesi insomma infiniti quello idee infiniti lake placid cucudrilli cucudrilli un po rovinatiello ma chi se ne frega insomma non ve li sto ad aprire non c'è un cazzo da vedere dentro questo vabbè è un altro film questo è un film che non ho visto però c'è un bello slip case e una bella grafica lo slip case quindi l'ho preso draco run told questo sarà una cacata galattica lo vedrò quando avrò voglia di quando avrò problemi di stitichezza guarderò questo dentro c'è andiamo a finire perché ho fame avevo un'altra edizione di questa serie di nightmare dvd mi piacciono un sacco non so perché ho regalato un'altra a un mio amico vabbè adesso ricomincerò a ricomprarli perché mi piacciono anche se io ho tutti nightmare in blu ray però sono proprio belle queste edizioni che avevano fatto guardate tutte in cartone con delle belle immagini il librettino cioè guardate qua sono proprio fatte bene quindi se riesco me le ricompro queste tra l'altro le trovate anche c'è qualcosina anche su amazon 3 euro l'uno poi questo non lo conosco è roger fratter innamorata della morte questo pagato questo l'ho pagato 3 euro su amazon in realtà non so perché mi è venuto da comprarlo così non lo conosco lo guarderò tornando alle robe prese mercatini un'edizione di doom questo sarà maccio feca incredibile però era carino c'è l'esipto di case pagato un euro a volte i mercatini pago anche 50 centesimi quindi non mi ricordo dovrei mettere quando li compro dovrei metterli tutti da parte per ricordarmi quanto li ho pagati taste from the crypt ecco di questi qua non so quanti ne sono usciti test from the crypt un po rovinato lo squalo 2 mercatino anche questo assino questo che sarà una cacata però sono fan della serie di resident evil quindi ho preso anche il film in animazione resident evil the generation non so quando riuscirò a guardarlo però non ho pagato 2 euro va bene esp sto andando velocissima perché sono stanco basta esp fenomeni paranormali questo me l'ha trovato mio figlio sono contento perché gli ho detto senti accompagnare a cercare un po di film usati e gli ho detto senti se trovi degli horror mi avvisi perché almeno si metteva anche lui un po giocare a cercare gli horror me l'ha trovato lui quindi lo ringrazio grazie giovanna per avermi trovato questo film non me lo ricordo neanche se l'ho visto purtroppo c'è una scritta qua troppo anche un arello proverò a toglierla ne avevo comprati un paio qualche tempo fa ho deciso di comprarli ogni volta che ne trovo e fare la collezione dei dei piccoli brividi quindi questi sono i primi che ho li leggo a mio figlio mi sembra una cosa molto intrigante poi adesso imparerà a leggere quindi spero che possa appassionarsi un po la lettura che fa bene al cervello e niente quindi questo è l'ultimo l'ultimo pezzo diciamo aggiunto alla collezione ragazzi questo è tutto quello che avevo da farvi vedere come aggiornamento dei film della mia collezione se il video vi è piaciuto mettete un like eccetera vi metto tutti i link per acquistare questi film sotto al video lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video